MEDO CAZZO! Sbagliato ragazzi No, se... Nicchia, veramente? Come mai? Come potevo pensare via Crimea? Dimmi come potevo pensarci No, no, aspetta, attenzione No, 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 io me ne vado a casa Bravo, eh? Io me ne vado a casa Io me ne vado a casa C'era merda, sei una merda Cazzo! Fra la settimana prenotiamo il Bellagio, dai Cosa vi devo dire, minchia, sono... Ci regali il Bellagio? Sono... Come si dice? Sono mortificato, ragazzi Ma come si... Cioè, c'è rovinato tutto È veramente assurda questa cosa Mi dispiace Non ci posso credere È un momento, è una scuola Mi fa una sigla Ma c'era convinto No, ma a me le bollette mi arrivano a casa A casa Mi arrivano a casa Vi è Crimea, eh? Bravo Due anni di fila, eh? Complimenti, eh? Minchia, raccove Che figura Mi ha visto Ma come fai a intestare di acrimea la carta alla carta? Il motivo ci sarà Eh, per denaro ci sarà Ci giro di sopra Perché loro evidentemente quando mi hanno chiesto l'indirizzo Mica, potevamo prenotare tutto in scioltezza Potevamo prenotare tutto in scioltezza Mi dispiace, ragazzi Proviamo a prenotare lo stesso Chiamiamo Sergio Quello è il peggio di noi Non trovare scuola Peggio di me Ma scuola, adesso la facciamo Questa qua No, facciamo Ti rimarrà incollata per la vita Basta Tanto fra una settimana è sbloccata Perché mi ricordo Un mese No, no Un mese Sì, complimenti